Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale. Questa sera facciamo una risposta secca molto veloce soltanto con gli oracoli degli angeli e abbiamo sei varianti. Non so che cosa uscirà, non chiediamo niente, andiamo semplicemente a vedere che cosa vi vogliono dire questi oracoli, quindi semplicemente il video sarà questo. Vi faccio vedere i sei cristalli. Per la variante numero uno avete un'olite come pietra. Per la variante numero due c'è un quarzo rosa. Per la variante numero tre una tormalina nera. Per la variante numero quattro abbiamo un occhio di tigre. Per la variante numero cinque un'agata moschiata. E per la variante numero sei un'ametista. Come sempre vi chiedo di farvi guidare dall'intuizione, potrebbe esserci anche più di una variante in questo video che vi attira. C'è una sola carta quindi avremo una risposta super concisa, però in generale credo che possiate trovare una risposta a qualcosa. Potete anche fare una domanda se volete e avrete una risposta. Detto questo partiamo subito con la prima variante. Vi ricordo che ci sono anche su Instagram, potete trovare il link nella bio del canale. Ciao variante uno. Questa è la tua pietra? Tu hai scelto l'olite? Andiamo a vedere cosa deve dirti il tuo oracolo. Il tuo oracolo dice comunica chiaramente. Variante uno, in questa situazione la chiave potrebbe proprio dipendere dal comunicare chiaramente con qualcuno. C'è qualcosa che sta per succedere o che è già successo, qualcosa che tu devi spiegare a qualcuno e che potrebbe per alcuni essere sintomo di incomprensione o essere stato sintomo di incomprensione. Per altri invece è semplicemente qualcosa che dovete fare o una comunicazione che dovete dare. Ma quello che vi viene detto è che ci va a chiarezza. Quindi se è qualcosa che dovete ancora fare, vi viene chiesto di comunicare in maniera più chiara possibile, più esaustiva possibile ciò che dovete dire. Se invece è qualcosa che è successo e che ha portato un misunderstanding, un'incomprensione, vi viene chiesto di provare a comunicare chiaramente con le persone coinvolte perché quella lì è la chiave della soluzione. In ogni caso vedo che questo porterà alla soluzione. Quindi se tu ti impegnerai a comunicare in maniera chiara, porterà alla soluzione. Quindi una positività nella situazione. Quindi questo è il messaggio per te, variante 1. Spero davvero di esserti stata utile. Se ti va fammelo sapere con un commento qua sotto. Lasciami un cuoricino bianco per farmi sapere che hai scelto l'ulite e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video. Passa alla variante successiva. Ciao variante 2. Tu hai scelto il quarzo rosa, questo è il tuo cristallo. Andiamo a vedere cosa deve dirti il tuo oracolo. Il tuo oracolo dice, aspetta. Variante 2. Per te c'è questa situazione nella quale non sai cosa sta succedendo. C'è questo fermo. C'è questa energia stagnante. Non sai cosa sta succedendo dietro le quinte. Forse ci sono persone che devono farti sapere qualcosa riguardo una situazione. Magari hai richiesto, non lo so, un colloquio. Devi sapere una risposta. Hai richiesto qualcosa e devono comunicarti magari un risultato di un referto medico anche se non facciamo letture sulla salute. Però credo che sia questo un po' l'energia della situazione. Questo è quello che sento. Qualsiasi cosa sia, forse stai aspettando di ottenere un risultato oppure semplicemente stai aspettando che qualcosa succeda o qualcosa si manifesti, qualcosa arrivi. L'universo ti dice di aspettare perché è giusto aspettare e che questa attesa ti viene portata per aiutarti a lavorare su te stesso o te stessa. Quindi nel momento in cui tu abbia delle energie molto impulsive che vogliono subito sapere come saranno le cose e cosa succederà vogliono subito che quella cosa accada. Forse questa è un'opportunità per te per imparare a gestire ciò che succede dentro di te quando devi aspettare, quando sei in attesa che qualcosa accada. Proprio perché forse quello che succede dentro di te va fuori controllo ed è per questo che molto spesso non riesci ad aspettare, vuoi subito che ci sia una risposta. La challenge sta proprio lì, nell'imparare per te ad accettare anche l'attesa o accettare che in certe cose forse non puoi avere il controllo di ciò che accade. Non dipende da te. Quindi imparare a gestire nel migliore dei modi possibili il tuo tempo nel momento dell'attesa. Questa è la tua challenge variante 2. Questo è quello che vedo per te, quindi questa è una sorta di aiuto che l'universo ti dà perché la prossima volta che dovrai aspettare, se oggi lavorerai bene e se in questo periodo lavorerai bene, non ti troverai più ad avere tutta questa ansia nell'attesa. Quindi questo è il messaggio per te, spero di esserti stata utile. Se ti va fammelo sapere con un commento, lasciami un cuorecino rosa per farmi sapere che hai scelto la variante numero 2 con il quarzo rosa. Noi ci vediamo molto presto in un prossimo video e io passo alla variante successiva. Ciao variante 3, tu hai scelto la tormalina nera. Andiamo a vedere cosa deve dirti il tuo oracolo oggi. Il tuo oracolo ti dice, cerca un segno, mi è caduta la carta per terra prima di metterla sul tavolo, quindi mi sento di dirti che c'è un messaggio aggiuntivo riguardante al fatto che forse ci sono dei segni che ti stanno arrivando ma tu non li riesci a cogliere, ma non ti preoccupare perché l'universo ovviamente non è che smetterà di mandarti segnali, anzi i segnali che ti manda diverranno sempre più forti e tu in qualche modo dovrai notarli prima o poi. Credo che l'universo e le tue guide ti stiano già mandando dei segnali da un po' di tempo, qualcosa che forse non vedi, ma penso che siano segnali positivi. Forse tu stai catastrofizzando un po' tutto, hai paura del peggiore dei risvolti possibile, vedo molti di voi essere ansiosissimi, però l'universo sta cercando di darti dei segni positivi in tutti i modi, ti sta mandando persone che ti dicono cose, situazioni, messaggi, numeri, qualsiasi cosa sia, ma l'universo sta cercando di comunicarti, di farti capire tramite dei segnali a quello che vedo che questa cosa potrà essere positiva. Per cui questo è quello che vogliono dirti le carte, cerca un segno, quindi cerca di agguzzare la vista e captare i segnali dell'universo se puoi. In questo modo riuscirai a essere più in contatto con le ragioni universali e sentirai meno l'ansia perché avrai delle rassicurazioni costanti. In ogni caso, ripeto, non preoccuparti perché se non sarai in grado di captare i segnali, l'universo intensificherà sempre di più i segnali affinché tu possa notarli fino a che tu non potrai in più non notarli, quindi vedrai qualcosa di veramente impattante accadere e che non è che è neanche possibile fraintendere, per così dire. Quindi non preoccuparti perché l'universo sta lavorando per darti il suo messaggio. Questo forse potrebbe essere un messaggio dell'universo, questo video stesso, questa variante stessa, potrebbe essere forse quel segno di cui tu avevi bisogno, quella conferma in più. Quindi questo è il tuo messaggio, variante numero 3, fammi sapere se ti sono stata utile, se ti va lasciami un cuoricino nero sotto nei commenti per farmi sapere che hai scelto la tormalina e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video, ti ringrazio per la visione e passo alla variante successiva. Ciao variante numero 4, tu hai scelto l'occhio di tigre, questo è il tuo cristallo. Andiamo a vedere cosa deve dirti l'oracolo che hai scelto. Abbiamo la carta di sì. Ok, questo è un messaggio di conferma, molti di voi hanno posto una domanda in questa variante, quindi la risposta alla vostra domanda è sì. Se invece non doveste avere posto nessuna domanda, questa è una sorta di conferma riguardo a un'energia che voi state avendo, che voi state esercitando in questo momento, è un sì, come dire sì, vai, semaforo verde, sei sulla strada giusta. Quindi anche questa è una conferma che vi dice in qualche modo che siete sulla strada giusta, siete sul percorso giusto. Alcuni di voi potrebbero aver avuto anche dei dubbi su questo, quindi siete o meno sul percorso giusto e questo potrebbe essere proprio una conferma. Inoltre vedo questo angelo che tiene in mano il fuoco, insomma il sole e la luna, il fuoco e il freddo, stavo per dire, il calore e il freddo, e sono due diversi poli, quindi potreste essere sul... questo è per alcuni, non è specifico questo messaggio, non è per tutti, ma potreste essere sul giusto percorso e ve ne rendete conto perché riuscite a equilibrare le vostre parti interiori. Alcuni di voi stanno cercando di riequilibrare la propria parte e possiamo dire che si rende sempre disponibile, quindi la parte più calda, con la parte più fredda, quindi quella che si nega agli altri, forse perché non avete avuto molto la capacità di bilanciare queste cose e quindi adesso vi sentite più in allineamento o siete sulla via dell'allineamento, quindi sì, proseguite su questa via perché qualsiasi sia il vostro scopo state praticamente bilanciando gli opposti, quindi questo vi sta portando verso il vostro obiettivo. Questo è il messaggio per te, variante numero 4, spero di esserti stata utile, se ti va fammelo sapere con un commento, lasciami un cuoricino marrone per farmi sapere che hai scelto l'occhio di tigre, noi ci vediamo molto presto in un prossimo video, ti ringrazio e passa alla variante successiva. Ciao variante 5, tu hai scelto l'agata muschiata, questo è il tuo cristallo, andiamo a vedere cosa deve dirti il tuo oracolo. Il tuo oracolo dice la meditazione porta risposte. Allora, per te variante numero 5, potrebbe esserci un'urgenza di meditare, ovviamente parliamo di qualcosa dal punto di vista della guarigione, quindi non ti viene richiesto di fare nessuna meditazione specifica, è qualcosa che va a incrementare la tua tranquillità interiore. Per alcuni mi viene da darvi un consiglio, mi è arrivata questa cosa intuitivamente. Alcuni di voi hanno bisogno di incrementare l'autostima. In questo caso esistono delle meditazioni proprio sull'autostima. Fatemelo sapere se vorreste una meditazione guidata, perché sto pensando anche di fare quei video lì con meditazioni guidate nei quali vi guido passo a passo fare una meditazione su un determinato argomento, una determinata cosa che voi volete riuscire a riequilibrare dentro di voi, eccetera. Per esempio, appunto, una meditazione sull'autostima potrebbe essere utile a quelli che guardano questa variante, ma in generale credo che tu abbia le risposte dentro e che semplicemente il tuo corpo ti stia chiedendo di fermarti, di prendere un respiro, di riconnetterti con la tua parte interiore, come lo puoi fare attraverso la meditazione. Quindi le tue risposte arriveranno nel momento in cui tu riuscirai bene a connetterti, a radicarti dentro di te e a meditare, essere in meditazione, vedrai che ti arriveranno le risposte di cui hai bisogno. Se hai tante domande, questa è la tua risposta. Spero di esserti stata utile la variante numero 5 e fammelo sapere se ti va con un commento. lasciami un cuoricino verde sotto per farmi sapere che hai scelto la gata muschiata. Noi ci diamo molto presto in un prossimo video e io passo alla variante successiva. Ciao variante numero 6. Tu hai scelto l'ametista. Questa è la tua pietra. Andiamo a vedere cosa deve dirti il tuo oracolo. Abbiamo l'oracolo di perdono. Ok, questa è sempre una variante molto tricky quando esce perché le persone che poi guardano queste stese mi dicono io non riesco, io non perdonerò mai. Molti di voi mi dicono così. Allora, quindi ho questa variante per voi e vi voglio dire che per chi non si sente di perdonare qualcuno in questo momento potreste essere fermi, bloccati nella rabbia, che è un'emozione fisiologica importantissima per la guarigione e gli spiriti vi mandano questo messaggio semplicemente per dirvi che prima o poi arriverà finalmente il momento in cui voi vi liberirete da questo peso che avete dentro. Quindi questa rabbia che potrebbe essersi essere rimasta intrappolata dentro di voi creando dolore soltanto a voi. Quindi non dovete forzarvi a fare nulla, semplicemente accoglierete in maniera naturale quando sarà il momento questa nuova energia. L'energia è quella del perdono. Qua c'è qualcuno che ha sofferto davvero tanto per un comportamento non positivo di qualcun altro oppure potreste avercela con voi stessi per degli errori che avete fatto nel passato. Ecco, queste carte vi vogliono portare un po' di compassione anche per voi stessi perché se avete sbagliato nel passato semplicemente potrebbe essere che voi non foste in grado di agire in nessun altro modo rispetto a quello che avete attuato avete messo in pratica. Forse perché non avevate gli strumenti forse perché non avevate compreso tante cose forse perché quegli errori stessi vi hanno fatto comprendere come in realtà volete agire. Quindi è semplicemente una mancanza di strumenti che vi ha fatto fare quell'errore. Quindi queste carte vi vogliono dire che avercela con voi non ha quasi senso perché in qualche modo avete imparato siete chi siete ora perché avete sbagliato. Se qualcun altro ha sbagliato con voi vi vogliono dire che prima o poi vi sentirete di lasciare andare questo peso perché quelle persone non avranno più niente a che fare con voi e perché quelle persone semplicemente forse fanno questo non soltanto a voi ma anche a tante altre persone che li circondano quindi è un po' un loro modo di essere di funzionare dovuto a qualcosa che loro stessi hanno vissuto nella loro vita. Quindi quando capirete questo proprio in maniera inconscia familiarizzerete con questa con questa energia e credo che vi sentirete in maniera naturale di perdonare voi stessi o gli altri di lasciare andare. Questo è il messaggio per voi variante 6 spero di esservi stata utile se mi va lasciatemi un cuoricino viola sotto nei commenti per farmi sapere che avete scelto l'ametista noi ci vediamo molto presto in un prossimo video vi auguro una bellissima serata ciao ciao